Bene, cara Francesca, guarda cosa ha portato, poi dici che mi dimentico, guarda qua il disco di Francesca, questo disco, che non è un disco qualunque, questo sta andando veramente, guarda, forse, benissimo proprio, va a ruba praticamente, guarda, ecco, lo vedete, ho sentito la Dance with Francesca e tutte le canzoni che lei ha cantato in questo anno, tutte qui dentro, sono vero? Tutte, 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 anche questa che canti ora, che però so che tu vuoi dedicare a una persona un po' speciale, vero? Lo dico io o lo dici tu? Vuoi dirlo tu? La voglio dedicare a Marina, la nostra coreografa A Marina! Ciao Marina! Bene, bene, allora questa canzone, contenuta nel disco di Francesca, la balliamo tutti insieme, dedicata anche a Marina, la ballerà sicuramente anche lei e la guarderò, vedi? E Francesca canta Mandy, vai! Open me Grazie a tutti. 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 Ciao.